SIGLA Ma sei fuori? Sì. Nel nostro condominio, ogni giorno, può accadere l'imprevedibile. Perché mi fate questo? Perché siete una sgualdrina. Amore, due colpi in pieno petto, vedi tu? Bisogna vedere se adesso ho degli organi vitali. Menami, dammi lo schiaffo. Ah, 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 sì! È un preservativo. Mi li hai finiti tutti tu. E adesso come faccio? Se vuoi del domo, pac di rai. Dentro ogni storia, io ti amero per tutta la vita. Sei fidanzato o no, eh? Però tu dovresti nasconderti sotto il letto, sai? Per la scientifica. Che cazzo fa? Dietro ogni maschera. Ma te l'ho detto che ultimamente la magna degli uomini è indivisa? Ah, che pennacchio. Adesso ti apro. Oh, leviamo stai doghe! Prendo la sega. Andiamo di sega, via. C'è sempre un mistero. Chi è quella? Quella chi? Anche tu mi piace. Da svelare. Ci siamo tutti a questo punto. Sì. O no? Seguiteci. Dal regista di La peggior settimana della mia vita e il peggior Natale della mia vita. Credo di essere innamorato di te. Tu non stai bene. Una commedia su come la vita... Mi ami, anche se aspetto un bambino da un altro. A volte si ha come una sopopera. Dio, quante emozioni. Sopopera, un film di Alessandro Genovesi. Buonasera. Buonasera. Ma Bobbi? No. E il cane? Ma il poffantulo. Dal 23 ottobre al cinema. Buonasera. 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 Buonasera.